Ancora sbarchi, l'allarme sulla salute, a Vivo Marina è ancora in corso l'approdo di altri 1600 disperati, i medici preoccupati per le loro condizioni, racconto drammatico di un'immigrata e l'intervista a Erri De Luca dopo la discesa a Reggio Calabria. Affrontate tradizioni e presagi, la statua di Pizzoni che si spezza in tre parti alla vista del Cristo risorto, gli incidenti scongiurati a Briatico e Sant'Andrea e poi il bagno di folla tra Vivo, Vivo Marina e i centri del Vibonese e del Regino. Sconfitta andrangheta obiettivo strategico, così il ministro dell'interno Marco Minniti sulla lotta alla criminalità e sugli impegni assunti dal governo durante il comitato regionale per la pubblica sicurezza tenutosi a Reggio Calabria. Che fine ha fatto Damiano Oriolo? Ancora nessuna traccia dell'anziano di San Fili? Continuano le ricerche, si teme sia stato attirato in una trappola e qui ucciso e poi fatto sparire. Amministrative, ci conte c'è, il consigliere regionale scioglie le riserve, sarà lui il candidato del Partito Democratico alla guida della città capoluogo, l'intesa oggi pomeriggio nel corso di una riunione. Buonasera dalla redazione di La Cineus 24, benvenuti all'appuntamento serale con il nostro Tg. In apertura i temi dell'immigrazione, più di 1500 i disperati sbarcati a Vibo Valenza nell'ultimo sbarco sulle nostre coste. Tra loro anche il cadavere di un minorenne, la cronaca di un viaggio drammatico nel racconto di una delle immigrate sbarcate nello scalo vibonese. Cristina Iannuzzi. Ho lasciato il mio paese l'ultima volta che ho mangiato, ma non ci bovero, solo i sconti. Non ci davano neppure acqua. Noi stavamo soffrendo, stavamo davvero soffrendo. Era il quarto giorno quando siamo arrivati qui. Non c'era il sole. Ma l'ho trovato qui. Hanno patito la fame, la sete, gli imprevisti che si possono immaginare in una traversata così difficile. 1600 disperati del mare che fanno i conti con la fortuna di essere comunque arrivati nel porto di Vibo e la paura che si vede ancora nei loro occhi. Una traversata drammatica, durata diversi giorni, fino a quando il rimorchiatore Asso 29 li ha intercettati e tratti in salvo. Il Mediterraneo si conferma mare di morte e il porto di Vibo a Valencia diventa in queste ore la solita stazione pietosa dei soccorsi. C'è infatti anche il cadavere di un ragazzo di 16 anni, a bordo del natante e battente bandiera italiana, ormeggiato poco prima delle 13 nel porto calabrese. Il giovane, secondo i primi rilievi, sarebbe morto a causa degli stenti patiti sul barcone con cui aveva tentato il viaggio della speranza. Numeri straordinari per una macchina organizzativa che anche questa volta ha dato prova di efficienza. Nelle operazioni sono impegnate oltre 500 persone fra forze dell'ordine, medici e volontari. Tra gli sbarcati 149 donne, 15 delle quali in stato di gravidanza e 80 bambini. La prefettura di Vibo ha allestito tre capannoni nell'area industriale di Porto Salvo, dove saranno trasferiti i profughi in attesa di essere identificati. I minorenni non accompagnati, 300 circa, resteranno nel Vibonese. Gli altri verranno dislocati in diverse regioni d'Italia, secondo un piano predisposto dal Ministero dell'Interno. Cristina Iannuzzi, per la CNews24. E' stato fatto il primo triage sulla nave, si sta facendo il secondo triage nel Gazebo con i medici dell'USMAF. Quelli che vanno attenzionati sono già nel PMA, quindi hanno già avuto le prime cure. Alcuni sono andati in ospedale in un caso di sospetta tubercolosi. I nostri, insieme alla Croce Rossa, insieme a tutti i volontari della protezione civile, stanno cercando di arginare la fretta che c'è, perché tutti vanno assistiti, tutti vanno purati, tutti vanno rinfocillati. Ci sono stati un po' momenti di difficile mantenimento all'interno della nave, però adesso le cose si sono normalizzate e quindi stanno andando. Henry De Luca, grande giornalista, grande scrittore, ha passato una Pasqua speciale tra i migranti a bordo della nave di Medici Senza Frontiere, attraccato al Reggio. Noi l'abbiamo intervistato. Esistono patrie in viaggio, patrie in spalla, portate con sé perché quelle di origine si sono disgregate. Tutta la nostra epopea di emigranti è stata patria, chiusa dentro una bisaccia e imbarcata per terre ed oltre mare. Per vedere da vicino ciò che la sua preghiera laica al Mediterraneo, mare nostro che non sei nei cieli, racconta in versi, lo scrittore e giornalista Henry De Luca si è imbarcato sulla Vos Prudens di Medici Senza Frontiere, sbarcata il giorno di Pasqua al porto di Reggio Calabria. Stare a bordo con queste persone, fissare su di me un tatuaggio, il tatuaggio di questo tempo, questo però è un segno che entra sotto pelle. E' un segno indelebile proprio quello del racconto del salvataggio in mare di 649 persone che lo scrittore documenterà in diversi resoconti per testate europee. Hanno pescato delle persone che stavano su dei gommoni sgonfi, gremiti, ha avuto il privilegio di vedere le facce di questo mondo nuovo. Questi ragazzi hanno attraversato ogni tipo di ostacolo e hanno dovuto affidarsi a qualunque tipo di miracolo nelle peggiori avversità, dunque sono dei combattenti della loro stessa vita e hanno trovato qui, da voi, un'accoglienza impensata. Grazie, grazie. Dominella Trunfio per la C News 24 Una Pasqua quindi vissuta tra sbarchi di immigrati ed eventi religiosi. Le affrontate in particolare, alcune delle quali non perfettamente riuscite. Vediamo cos'è accaduto in Calabria con questo servizio. La Pasqua calabrese tra tradizione e cattivi presagi. A caratterizzare la Pasqua in diversi comuni calabresi è un rito affascinante, l'affrontata, in cui San Giovanni si reca tre volte dalla Madonna per annunciare la resurrezione di Gesù. Dopo la terza volta, correndosi incontro, i portatori dei simulacri fanno ricongiungere la Vergine Maria con suo figlio e cadono ai veli del lutto, creando un momento suggestivo, come quello vissuto a Vivo Valencia, a Vivo Marina, anche nel 2017. Ma in realtà quest'anno non tutte le rappresentazioni sono andate a buon fine. Un'escalation di emozioni sia nel Catanzarese che nel Vibonese. Polemiche a Filandari, dove addirittura salta la manifestazione. Grida allo scandalo d'Acquaro per una vestizione della Madonna troppo esposta al pubblico. Istante di paura, briatico, dove la statua della Vergine stava per cadere al suolo se non fosse stata risollevata in tempo così energicamente. Fatto analogo anche alla confrunta di Sant'Andrea Ioni, dove i portatori del simulacro barcollano ma non mollano la presa, riassestano in asse la statua e ne scongiurano il crollo. Ma a conquistare le copertine dei quotidiani e quasi centomila visualizzazioni sul web, l'affrontata di Pizzoni che si è conclusa nello sconcerto generale alla vista dell'effigie della Madonna prima a frantumarsi e poi cadere in terra alla sola vista del Cristo. Così nessun tradizionale saluto tra le statue, ma solo musica e fuochi d'artificio accolti da facce sgomente. In attesa della spiegazione ufficiale della congrega sulle condizioni della statua precedenti all'evento, per molti rimarrà un segno nefasto. Erika Cunzolo per la Cineus 24. E a Reggio Calabria la cerimonia di consegna dei beni sottratti all'Andrangheta in presenza del Ministro dell'Interno Marco Minniti e dei vertici nazionali delle forze di polizia. Sono 92 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e consegnati questa mattina dall'Agenzia Nazionale nel corso della cerimonia ospitata nella Prefettura di Reggio Calabria alla presenza del Ministro dell'Interno Marco Minniti. 67 sono andati al Comune di Reggio Calabria, 8 serviranno a soddisfare esigenze abitative delle classi sociali svantaggiate, gli altri per finalità sociali. Tra loro, come rimarcato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, anche l'ex cinema Orchidea, che diventerà il tempio della cultura, della musica e dell'arte. Un'ulteriore manifestazione che dimostra quanto questa città voglio trasformarsi da esempio negativo, quel che detiene il condominio con la Sicilia è il numero più alto di beni confiscati alla criminalità organizzata in esempio positivo e virgoso perché completa quel passaggio dalla misura di prevenzione alla confisca dei patrimoni mafiosi alla riassegnazione dei beni per finalità sociali. Sono invece tre i beni che andranno alla Regione Calabria per finalità istituzionali. I mobili sono stati assegnati anche alla Prefettura di Reggio, al Tribunale di Sorveglianza e dalla Corte d'Appello dello Stretto. Nell'elenco dei beneficiari, anche Carabinieri e Guardia di Finanza, a ritirare simbolicamente le chiavi dei beni assegnati, erano presenti i comandanti generale Delzette e Toschi, oltre al capo della Polizia Gabrielli. Consolato Minniti per la CNews24. E proprio il Ministro Minniti, a margine della cerimonia, ha fatto il punto sullo stato della lotta all'andrangheta e sugli impegni assunti nel Comitato Regionale per la Pubblica Sicurezza. Abbiamo preso atto del lavoro straordinario su lonti in questi anni. In Calabria contro l'andrangheta c'è stata un'attività di prevenzione e di repressione senza precedenti. I numeri parlano chiaro, parlano chiaro sul terreno delle indagini svolte, parlano chiaro sull'arresto dei latitanti, parlano chiaro per quanto riguarda l'attività preventiva, come il sequestro e poi la confisca dei beni di repressione. Per quanto riguarda il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Interno ha confermato una cosa che vi dico molto importante, e cioè che in Calabria si gioca una partita decisiva che va molto oltre i confini della Calabria. L'obiettivo non è contenere l'andrangheta, ma sconfiggerela. Guardate, questo è un punto cruciale, naturalmente è tutto evidente che questo è un percorso, ma mentre prima parlare di sconfitta poteva apparire tra virgolette una mera petizione di principio, sa pure essa molto importante, perché guardate nella lotta contro la riograzione organizzata contro moltissimo anche le petizioni di principio, oggi grazie al lavoro che si è svolto in questa regione si può dire che questo non è una petizione di principio, ma un obiettivo statistico. Tutto quello che è necessario noi lo faremo, perché io penso che questo oggi costituisca una priorità nazionale. Consolato Minniti per la CNews24. I temi del lavoro, un ponte pasquale d'attesa e di lotta per gli operai del porto di Gioia Tauro. Quattro cento sono a rischio e attendono con ansia l'esito del tavolo romano. Finita la Pasqua, continuano le ore di passione per i portuali di Gioia Tauro. Si va a Roma, dove il ministro Graziano Del Rio ha convocato le parti e i sindacati hanno pensato di invadere pacificamente la capitale. Almeno sette i pullman organizzati per condurre gli operai davanti al Ministero dei Trasporti e attendere l'esito della riunione di mercoledì mattina. Al di Castello di Portapia, per un vertice concesso dal ministro dopo il blocco autostradale di venerdì, si discute tanto dell'avvertenza che riguarda i futuri licenziamenti di massa quanto della sostanza politica dei promessi investimenti per il distretto portuale industriale. Si riparte cioè dal tanto criticato accordo di programma quadro firmato anche dai sindacati confederali nel luglio scorso, dove l'esubbero di 400 portuali era stato messo nero su bianco assieme a tutta una serie di impegni della politica che ancora non si sono materializzati. Non c'è ancora l'agenzia pubblica che deve riassumere per 36 mesi i lavoratori espulsi dall'organico di MCT e in forte ritardo l'avvio dei lavori per la superstazione ferroviaria interna al porto. L'autorità portuale è da più di un anno commissariata e l'ente di sistema che doveva accorpare anche Messina e Melazzo si è impantanato. Insomma, un'avvertenza sindacale che si intreccia i soliti dilemmi sulle responsabilità delle istituzioni con l'aggravante che l'azienda in questi mesi ha avuto mano libera circa le figure che intende tagliare. Ha fatto misteriosi spostamenti da una mansione all'altra facendo risultare esuberi che in alcuni settori i sindacati contestano. Agostino Pantano per la CNews24. La cronaca dai fermi alle ordinanze di custodia in carcere. Il secondo atto dell'operazione della Guardia di Finanza che nelle scorse settimane sull'asse Reggio Catanzaro-Firenze ha sgominato una rete dedita al narcotraffico. Colpo ai clan Bellocco di Rosarno, moleppi romali di Gioia Tauro, avignone di Taurianova e paviglianiti di San Lorenzo. Manca i narcos di Melicucco e San Luca, tutti interessati a pianificare l'importazione di oltre tre quintali di cocaina dal Sud America. La Didia di Reggio Calabria chiude così il cerchio sull'operazione Gerry della Guardia di Finanza scattata il 23 marzo scorso con 18 fermi su 32 indagati complessivi. Tra gli arrestati i fratelli Michele Giuseppe Bellocco e il rosarnese Rosario Arcuri che avrebbe curato i viaggi dal Sud America al porto di arrivo dove un'equip di professionisti guidati da Domenico Lentini Calabrese D'Agni emigrato in Toscana avrebbe provveduto al recupero dai container e alla successiva consegna ai grossisti. E' così che le fiamme gialle del Goa e del Gigo di Catanzaro con il supporto del secondo reparto del Comando Generale e della Direzione Centrale Antidroga sono riuscite a sequestrare nel porto di Livorno oltre 300 kg di cocaina. Il gruppo criminale si sarebbe inoltre occupato della compravendita di marijuana, hashish ed eroina in alleanza con i napoletani e con insospettabili professionisti che non avrebbero disdegnato di fare affari mediante l'acquisto e l'ingrosso della cocaina. Tiziana Bagnato per la C News 24. Andiamo adesso nel Cosentino. Si infittisce il giallo sulla scomparsa di Damiano Oriolo. Si infittisce il mistero della scomparsa di Damiano Oriolo l'anziano di 78 anni del quale non si hanno più notizie ormai dall'8 aprile scorso da quando avrebbe contattato i familiari con il suo cellulare. All'altro capo del telefono una voce confusa, sconnessa, hanno riferito la nuova ed il nipote, la voce impaurita di un uomo disperso al buio ed al freddo tra i boschi. L'auto è stata rinvenuta in questi luoghi dove vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato continuano a cercarlo nella speranza di chiarire questo giallo. Le forze dell'ordine hanno battuto l'aria palmo a palmo con l'ausilio di cani molecolari perfettamente addestrati che però non sono riusciti a fiutarne le tracce, tanto da alimentare l'ipotesi che in questa zona posta lungo il vecchio percorso della strada per Paola nel comune di San Fili, Damiano Oviolo non sia mai arrivato e che forse quell'auto ritrovata insieme ad alcuni effetti personali faccia parte di una macabra messa in scena. È una delle ipotesi ma nulla si trascura. Qualche elemento interessante potrebbe arrivare dagli esiti dei vilievi della scientifica effettuati sul veicolo dell'anziano. L'indagine è in corso e gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo anche se con il passare dei giorni diventa sempre più difficile che l'uomo possa rientrare a casa sano e salvo. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Voltiamo pagina la politica elezioni amministrative a Catanzaro ha in mente confermata la candidatura sindaco del consigliere regionale Enzo Ciconte sarà lui a guidare la coalizione attorno al partito democratico servizio. Ha in mente un progetto politico chiaro che rilanci la città e dia opportunità concrete ai giovani il consigliere regionale Enzo Ciconte che ha da poche ore ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Catanzaro per il centro-sinistra. Circa 12 le liste diverse associazioni e 3 ex candidati a sindaco che hanno deciso di rinunciare alla loro corsa per sostenere il candidato Dem Rino Colace Maurizio Mottola D'Amato e Antonio De Marco il centro storico la sanità l'università per Ciconte c'è bisogno di una classe dirigente nuova ma con esperienza che possa affrontare i problemi del capoluogo di regione che appare degradato e abbandonato la nostra sarà un'aggregazione a servizio della città e dei cittadini sostiene Ciconte siamo pronti a governare la città in maniera democratica nel rispetto dei valori e dell'etica richiesti per il consigliere regionale l'unico avversario è il sindaco uscente Sergio Abramo candidato per il centrodestra e sostenuto anche da Catanzaro da Vivere del senatore Piero Aiello e da Fratelli d'Italia alleanza nazionale con l'ex parlamentare Giancarlo Pittelli continuano la loro corsa intanto anche il leader del movimento Cambia Vento Nicola Fiorita e la candidata Pentastellata Bianca Laura Granato Rossella Galati per la C News 24 andiamo avanti si torna a parlare di fusione di comuni nell'area ionica Catanzarese questa volta la proposta arriverebbe dall'associazione Montauro Mare sentiamo Gasperina Montepaone Montauro e Staletti potrebbero diventare un unico comune o almeno è quello in cui crede l'associazione di recente costituzione Montauro Mare composta dagli operatori turistici e commerciali del territorio si tratta di centri dalla spiccata vocazione turistica e dotati di qualità paesaggistiche straordinarie che se messi insieme potrebbero ambire a grandi progetti di sviluppo della costa ionica catanzarese per l'associazione Montauro Mare non c'è infatti alternativa all'unione delle forze e delle risorse che potrebbe dare vita alla costa dei Saraceni questa la denominazione proposta per l'unico grande comune e le istituzioni interessate che già in alcune circostanze hanno condiviso dei servizi pubblici offerti ai cittadini sembrano favorevoli nel valutare i vantaggi derivanti dalla gestione comune di risorse umane ed economiche per il sindaco di Montauro Leo Procopio la fusione in un unico grande comune di questi centri ricchi di storia arte cultura e bellezze naturali consentirebbe una migliore gestione della cosa pubblica ma anche il superamento di quel provincialismo che solitamente ostacola la crescita e lo sviluppo dei piccoli centri anche Gregorio Gallello primo cittadino di Gasperina ha da sempre guardato con interesse una simile eventualità che sia unione o fusione commenta Gallello poco importa ciò che interessa è cercare di operare in sinergia per rendere il nostro territorio più forte e produttivo Rossella Galati per la CNews 24 ci spostiamo a Cosenza e torniamo ad occuparci della vicenda della metrotranvia e del duro braccio di ferro tra Occhiuto e Oliverio il presidente della regione prova adesso a coinvolgere istituzioni intermedie e parti sociali il servizio cerca una sponda Oliverio nel braccio di ferro intrapreso contro il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto nella vicenda della costruzione della metrotranvia coinvolgendo nel dibattito il partenariato sociale convocato intorno ad un tavolo per un confronto schietto sulle implicazioni negative derivanti dalla eventuale rinuncia all'opera nella sede dell'ex Inapoli sono giunti il presidente della provincia Franco Iacucci il vicepresidente del consiglio comunale di Palazzo dei Bruzzi Francesca Cassano i consiglieri regionali Mauro Dacri Orlandino Greco e Franco Sergio il direttore delle ferrovie della Calabria Giuseppe Lofeudo con loro l'ingegnere Luigi Zinno responsabile del procedimento i rappresentanti sindacali di CGL CISL UIL UGL il direttore di Confindustria Cosenza Rosario Brand e i rappresentanti di Coldiretti Calabria la matassa non è semplice da sbrogliare Mario Occhiuto non è mai stato entusiasta della metrotranvia quando Oliverio proseguendo nell'azione avviata da Scopelliti e dall'assessore regionale Giacomo Mancini è riuscito a riallocare le risorse necessarie nella programmazione 2014-2020 dando corso alle procedure di appalto dei lavori il primo cittadino del capologo Bruzio ha costruito sullo slogan No Metro parte del proprio successo elettorale che nella prima vera 2016 gli ha consentito di riprendere la sua esperienza di sindaco Oliverio dunque allarga il fronte della diatriba nella speranza di trovare un'intesa ancora possibile prima che scada il tempo Salvatore Bruno per la Cineus 24 Come abbiamo visto un incontro partecipato noi abbiamo raccolto le dichiarazioni del presidente Oliverio e di alcuni tra i rappresentanti istituzionali e sindacali Ora siamo alla decisione finale io prendo atto se il sindaco di Cosenza insiste nel volontà di non dover di non voler fare quest'opera con amarezza con dispiacere appunto vedere sfumare un grande investimento opere importanti che davvero costituiscono una opportunità per l'area urbana di Cosenza Bisogna uscire da posizioni politiche e ritornare a fare gli amministratori secondo me perché l'accordo è un accordo positivo per tutta l'area urbana di Cosenza per la provincia e per la regione Noi siamo perché l'opera si faccia certo va sostenuta la realizzazione di un'opera che sia la più funzionale possibile che sia di meno impatto possibile con il territorio L'argomento è delicato perché è un argomento che ha più diviso e meno unito e quindi bisogna lavorare affinché ci siano le condizioni per trovare un progetto condiviso È sicuramente un'opera che secondo noi va realizzata perché dà un impatto economico sul territorio ma è anche un momento nel quale le istituzioni ragionevolmente devono sedersi e devono decidere su questa questione Salvatore Bruno per la Cinews 24 Voltiamo pagina in occasione della giornata mondiale del libro sbarca a Reggio Calabria la fiera del libro tre giorni di workshop presentazioni incontri con editori e autori e tante performance musicali Finalmente è un sogno che si realizza perché in realtà il discorso di accumulare il libro la lettura alla festa di San Giorgio era un progetto che accarezzavamo sin dal primo anno del mandato dell'amministrazione di Giuseppe Falcomadà ma non eravamo ancora riusciti a realizzare Tutto pronto per San Giorgio una rosa un libro la kermesse letteraria ed editoriale ideata da Francesca Agostino che da San Giorgio Morgeto per la prima volta trasloca Reggio Calabria per l'occasione le stanze di Palazzo Alvaro diventano un momento di confronto diretto tra autori editori e lettori grazie al patrocinio dell'UNESCO della città metropolitana e del comune Regino abbiamo il piacere di ospitare tutti gli editori calabresi e anche qualcuno siciliano e qualcuno nazionale per cui abbiamo oltre 20 editori presenti nella sala delle conferenze di Palazzo Alvaro e poi invece nella sala scusate esposizioni non conferenze nella sala conferenze invece nella sala biblioteca storica ci saranno una serie di dibattiti un ricco programma quello del 21 22 23 aprile che per la sua quinta edizione prevede anche tante performance musicali la prima sera il venerdì ci sarà dei concerti di musica classica a cura del conservatorio cilea il sabato ci sarà un concerto di musica celtica e la domenica invece ci sarà jazz a cura del maestro Nino Spezzano dominella tronfio per la Cineus 24 adesso lo sport il calcio in primo piano dopo la pausa pasquale in serie A si torna a parlare della salvezza del crotone che sembra farsi ancora difficile vediamo perché in questo servizio tutto come un paio di settimane fa Pasqua fa felice l'Empoli e triste il crotone la lotta salvezza di Pitagorici torna a complicarsi ma ancora tutto è possibile non per pescare Palermo ormai spacciate con un piede tre quarti in serie B condizione estrema che i calabresi possono ancora rimandare ma adesso molto dipenderà dai toscani tornate più 5 e con un calendario decisamente meno probante di quello rosso-blu dopo la prossima trasferta in casa del Milan il caduro e compagni affronteranno Sassuolo e Bologna al Castellani due match decisamente alla portata considerate le poche motivazioni avversarie successivamente si andrà a Cagliari per poi ospitare l'Atalanta la penultima giornata chiusura invece di campionato a Palermo sei partite più complicate invece per il crotone che lo scida dovrà dare battaglia a formazioni ancora in lotta per l'Europa come Milan e Lazio alla penultima poi ci sarà la trasferta con la Juventus mentre più agevoli dovrebbero risultare gli impegni contro Pescara ed Udinese basteranno per completare una rimonta che avrebbe dell'incredibile il crotone sarebbe salvo anche in caso di arrivo a pari punti per la migliore differenza reti negli scontri diretti contro i toscani Alessio Buon Passo per la Cineus 24 questo era l'ultimo servizio noi ci fermiamo qui un buon proseguimento di serata e arrivederci visita il sito www.lacineus24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie www.lacineus24.it Grazie.